7.000, questo è 14.000 mi sembra, quindi abbiamo raddoppiato la cilindrata e vediamo cosa riesce a fare 19.01 è il tempo che ha fatto Silvano Taroni con un trattore che ha 4-5 anni, questo ne ha 50 eh la Catimera ce l'ha eh, eh ce l'ha, ce l'ha la Catimera, eh sì, veloce come un missile 993